Torna Carnevale, prima categoria di Alfredo Pardini, vincitore dell'Università del 2017 Che vuole dare i tempi, mascherato in un po' di Alfredo Molescanti E quando Veronica cantava, secondo la categoria di Molescanti Concorsi di bellezza, posturati in gruppo di Pucci Ecco, Redi di Galaria, prima categoria dei fratelli Francesconi Non come c'è, è un film che mi ricorda, il maestro Tono Garriano Grazie a tutti Grazie a tutti